uniti al tutto guida tutti potrebbero comunicare con la nostra dimensione se imparassero a sentirsi uniti al tutto l'uomo commette un gravissimo errore cioè quello di credersi un universo a se stante noi voi siamo una cosa sola il sole le stelle l'universo tutto ogni creatura ogni pianta ogni animale sono una cosa che non si differenzia spiritualmente ma soltanto formalmente in realtà siamo un tutto emanato dalla stessa energia che sempre state sempre sarà eterna voi non ci sentite e non ci vedete perché le nostre vibrazioni sono assai più veloci delle vostre e quando accade che possiamo manifestarci visivamente è perché rallentiamo ed abbassiamo le nostre capacità vibratorie ora per esempio siamo in tanti intorno a voi grazie a tutti grazie a tutti